Dopo il movimento per una diamante migliore, un altro gruppo esce allo scoperto per le prossime elezioni nella città dei Murales. Diamante Futura si è ufficialmente presentata alla città ieri sera direttamente dal salotto dell'emittente cittadina. Giuseppe Savarese, Pino Pascale e Achille Ordine sono i fondatori del gruppo, con i primi due che vantano diverse esperienze in consiglio comunale, e il terzo che è la prima novità di questo nuovo soggetto politico. Ad appoggiare questo terzetto, venuto allo scoperto, ci dovrebbe essere anche l'ex sindaco Ernesto Caselli e i suoi fedelissimi. I temi di cui si è parlato sono i grandi classici, primo fra tutti il porto, l'apertura ai giovani, ed è stata anche rispolverata l'idea delle primarie per la scelta del candidato a sindaco. In verità Savarese fu il primo a salutare con favore la proposta delle primarie avanzata dal movimento per una diamante migliore, che dopo mesi di vana attesa ha scelto di andare per la propria strada. E a proposito di strada, in paese si parla già di un terzo gruppo in via di definizione, che dovrebbe essere composto dagli attuali consiglieri di minoranza Bartalotta e Trifilio, con l'aggiunta di un ex assessore della prima giunta Magorno, Battista Mauricino, e Luigi Fabiani, che sarebbe alla sua prima esperienza, nonostante il suo cognome sia già figurato nella storia politica della città. Sempre a questo gruppo sarebbe associato Fabio Cavalcanti, già candidato sindaco a due legislature Orsono, che in tal caso si allontanerebbe dai compagni della sciagurata esperienza della lista Il Volo, finita con essere ricusata alle passate elezioni. In questo quadro si profilerebbe una competizione a quattro liste, perché è chiaro che la maggioranza uscente riproporrà uno schieramento più o meno rinnovato, e nel quale, sempre secondo la voce del popolo, potrebbero figurare elementi dell'attuale gruppo di opposizione Cambiamenti. Questo il quadro pressoché confuso e siamo solo all'inizio.